a parte che possiamo fai chi di smeralda e questo è veramente qualcosa di wow però no è vero non so veramente come non me lo fa fa cioè non me lo fa fa nel senso non ha non c'è come cazzo si colora l'armatura toccato a un tutorial cioè no tutorial ma più che altro vede dov'è il c'è l'opera, dispense, sto cercando da tutto carbole in teoria sotto armature dovrebbe essere no? eh prova a darti una mano armature aspetta eh, decorazioni ma ne che niente niente lo devi mettere sull'incudine serio? no non lo so, no un po' intanto ce l'hanno trovato in realtà per fa' una prova eh però aspetta, aspetta un attimo salvà vai aspetta si si salvo creo l'incudine lo provamo e poi riesco perchè ci serve il ferro ci serve per fa' altro ok ok incudine creata anche se vabbè no c'è il ferro se ne trova in quantità industriale no sinceramente non capisco perchè no calcola niente vabbè dai piccolo tentativo che 300 si si no vabbè non è un problema esco senza salvà aspetta un attimo io faccio uno speed test qua in diretta eh no 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 seriamente vai io faccio uno speed test speed test c'è qualcosa che non va no no seriamente no 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 vai speed test c'è qualcosa che non quadra a che palle sto sto uscito dal gioco madonna aspeta aspeta fammi entra ahhh sei uscito eh si calcola non so vedere pure qua lo streaming qua perchè mi da a basso kb tacci sua colorare armatura minecraft tasto vabbè per ps4 uguale a per playstation 3 no sicuramente vediamo senza audio anzi che palle che por di flash qua madonna faccio sul telefono qual'è il problema possibilmente senza laggare aspera forse ho capito eh tocca fa la prova si tingi si se lo fa tingi? solo che ricordo voglio l'ho capito come si fa calco qua ah solo che tocca voglio averceli tutti voglio colorarli tutti quanti a una botta cioè allora dai non crescono i mucchini ma che cazzo è? i mucchini si so piccoletti i mucchini so belli i mucchini ma mi serve la loro pelle vabbè io faccio speed test qua eh ah intanto si graffto i i piedini così mi mancano soltanto esattamente tre quattro cinque sei pezzi delle pelle speed test dove cazzo stai? sei pezzetti di pelle ok sono rientrato sei pezzetti di potuta pelle inizia il test ah ping sei però non è ping quello che importa download 90 mega cioè ma vabbè mo vediamo mo vediamo l'upload mo mi faccio due risate guarda eh guarda guarda quanto alto no vabbè mo mi devi spiegare perchè va lentissimo no vabbè su 20 mega ma che cazzo no vabbè cioè no mo perchè sta ho bs in streaming che mi sta occupando 2 mega eh no no ma neanche 2 mega 0 kb per secondo no vabbè dai su 0 kb per secondo questa proprio te la potevi risparmiare eh non si capisce guarda boh non so ci sto per inuncia po' preset di utilizzo della cpu ma spiegatemi che vuol di cioè super fast sarà rendering dell'immagine e allora perchè c'è scritto che più è superiore a me nell'utilizzo della cpu no no è una cosa cosa è una cosa cosa la devo uscire la devo uscire pianta la raccoglie uccidila e semina nei altri certo lo farò sicuro no 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 se mi rompete per secondo stuola merda noto mamma pelle quanto ma da te perciò 200 chat 2 c'è carica i video su youtube 3 secondi non capisco cosa non è un uomo spazio di fiori di prezzi o chi è come faccio uscire acqua mannaggia te mucca del cazzo o lascia 2.000 a me io ne vado ammazza in giro cioè non ce la faccio più forte devo essere veloce non posso aspettare che crescono che poi fanno c'è un creeper muori 91 per cento la cpu c'è pure una witch ma ce l'hanno con me mi sa io quando c'ho roba buona nell'inventario comunque devo fare qualcosa e no non me la lancio la pozione stronza è tipico no? come le suinelle d'altronde stronza 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 vabbè io ho fatto quello che posso mi spiace se io ho 20 mega sto con la coscienza a posto niente sto registrato è fatto tutto il possibile ho fatto tutto il possibile la colpa non è mia la colpa di youtube del programma non lo so io ho fatto un po' almeno c'è questo è una colpa non è mia io la cosa la odio che mi lascia con cuore solo ho fatto un po' almeno ho fatto il fluido ps 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 perchè è esploso fa culo e non è l'avanzo del palo o la pelle la data chi era il cazzo ma qui c'è stata aperta aspetta mangi e prego devo scendere come domani posso dire con me ok ci sto ci sto devo solamente uscire acqua e prenderà a capelli oddio quanto belle o 5 me ne manca due pezzi dai i gambari erano due pezzi no c'è che mi manca quanti so 7 per no 7 pezzi sì perché so tre al lato c'è al centro in alto chi sta al capo me sto capito non è che sta al capo lo trova no te le mucche te le fottute mucche te le fottute mucche te le fottute mucche oddio non so a casca dentro un burrone che fa perchè si chiama un burrone ma boh forse perchè dentro c'è l'igra non può essere c'è un po' una stronzata non può essere il grande mio del burrone ma il cazzo mucche 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 non so manco poche no 6 me ne manca uno dai una mucca dai eccolo 7 pezzi muove che fai si scusa se non ho un po' seguito ma qua lo streaming mi sono no l'armatura ah la colorata ma spiegami un po' come si fa alla fine praticamente di prende il colorante lo devi proprio prende dall'inventario no come se lo spostassimo un'altra chest ah parlo di rimette sopra all'armatura al pezzo dell'armatura che senso di mettere sopra ah ah ho capito come se lo stai spostando di spostare la casella dove ci stai la ok e che sotto te esce la scritta e ti premo un pulsante di ingi che spettacolo ok io quindi ma facciamo questa l'obiettivo verso quello facciamo col salvataggio oppure vabbè per me se può fare tanto aspetta faccio una cosa si mi tocca salvavano ok vai 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 ok bene intanto ma speriamo che quello c'è nel senso ingi 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 non lo posso spero seriamente che ok titoria perfetto te l'ha dato? si me l'ha dato ma che devo fare uscire ehm rischiamo dai ehm rischiamo esci senza salvare ok ehm gioca ma voglio proprio avvenne una cosa se i due pezzi dell'armatura che c'ho io che so di ferro ricordo però c'ho soltanto due pezzi, c'ho quelli bassi, ossia i piedini e e vabbè, i cavali coprono di più di un'armatura di pelle, quindi c'è ovvio quella copre di meno però è tutta, quindi vedremo lo scopriremo vedrò ok, non c'è rientrato allora, io faccio una piccola ricerca su internet qua qualità qualità streaming bassa boh, scrivo maiuscolo non ostante fibra vediamo un po' che trovo, va maiuscola rigorosamente maiuscola 3 e mezzo lo sai una cosa? copre uguale esattamente uguale copre cioè il gambale quello, no il gambale rispetto a a come si chiama? a la i piedini e i gambali io faccio i piedini e i gambali in ferro ok ok, però c'ho soltanto quelli copre uguale all'armatura in pelle però bella interessante pensa quelli di diamante le protegge da tutto anche se c'è un diamante in tasta in tasca c'è un diamante portafortuna apposito puapapuapua puoh 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 paramo dobbiamo... che altro fare? bravo che pare io muo' a notte e mi metto a caccia di enderman anche se in realtà c'è non è la notte li puoi trovare in tutti ma non ho mai però sceglie tranne nel nether pro me e niente sei rimpagato anche se nel nel nuovo aggiornamento di minecraft sul computer pure nel nether sanno pensa un po 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 mi so chiuso fuori, so stupido allora mi sfoto un attimo l'inventario dalla merda che non mi serve tipo vediamo un po' efficienza 2, una piccosa di pietra con efficienza 2, serio? allora la polvere la sparro 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 ah c'ho due bottiglie dentro ma l'ha fatto che non Tea sto mouse del cazzo è rotto 24 pezzi di manzo crudo? ah no.. ma dove le fare le palle? niente è qualcosa di incredibile allora che cosa so che mette ma fa a dire innanzitutto visto che c'ho anche se c'ho 18 livelli non è massimo ma daniel ma nel senso anche se no adesso non vi spiega sta cosa allora te va incinta una cosa di livello 30 e ha incantato qualsiasi cosa livello io ho incantato è tipo 34 cosa a livello 11 me ne aveva sempre due livelli a botta ti prego no io voglio una spiegazione se non si capisce esattamente perché nostra cazzo di gioco durezza due durezza no dai durezza sul cazzo dei piccone durezza no dai ma no durezza no questo c'ho durezza e potenza che posso ma c'ho una storia che è già incantata però quindi niente vediamo questo anche se no da durezza e durezza ci sta niente da fare io riuscivo a capire cos'è sto present dell'utilizzo della cpu perché è impossibile senti io sto durezza aspettalo vado a scrivere al tifio i conoscenti ma come profetta durezza e durezza efficienza aspetta efficienza che ti scava più velocemente efficienza e durezza e quanto te dura calcola che se arrivo a 30 livelli c'è un fortuna 3 andrea sul piccolo pesca i diamanti tera 2 oppure due raccogli tocco di velluto almeno qua non è che servono però sai che c'è pure quello volendo c'è già il libro anche che poi qua l'ho chiamato codicita notte per cui è un bel hanno cambiato il nome l'anno l'unico e un po' da morbi poi lo si può fare un'armatura con acuttezza 3 protezione al fuoco 3 riscrizione 3 tutti e quattro pezzi 4 libri che te lo fanno po' e poi c'è il libro che c'ha tocco di seda 1 e efficienza 4 e protezione 3 cazzo che poi daniel a me mi pare un po' il nome di un ammorbidente tocco di velluto cioè non lo so ah boh si infatti è un ammorbidente allora come sei uscito? perchè il gioco sta tempranamente puzzando proprio da scritto quello che vedono a schermo l'altri se ti ricordi no il gioco è tempranamente no il gioco il no la vostra è uscita dal gioco no? ah si 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 perchè come ben sai a me pure mi percula quindi ma mai come è successo da ieri è possibile avviare minecraft qualcosa dietro si vabbè qualcosa di incredibile in esecuzione si vedono vabbè io vado a minare a sto punto quindi per fare l'obiettivo che devi soltanto spostare un'armatura cioè una come si chiama il colore sopra l'armatura di pelle si che fa l'obiettivo ah ok dove lo trovo il cioè devo ammazzare la mucca fammi un pezzo qualunque e prendo una tintoria e ci metto una tintoria vabbè e la tinta e ce la metto sopra così guarda che c'ho io i pezzi dell'armatura colorante ah bene meglio sono uscito dal gioco apposta ok ah pensavo a me dovevo ricraftare quello vabbè meglio così guardamo se puzza eh guarda se puzza guarda eh ce l'ha fatta oh non capisco perchè devo spegnere la playstation 3 però va bene se una cosa puzza puzza cioè ci vuole fatto aspetta e dai pezzi dell'armatura si dopo che hai colorato l'armatura per favore me la potresti da tanto a te ti serve sullo trofeo no? si infatti ah tutta quanta ah ok eh si da 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 ecco pare di coccodrillo ah no me ne manca una ok 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 tintoria ecco modo fa quello del no di notte magari per capire qualcosa di incredibile fare pelle di coccodrillo chissà qua sopra che sarà diventato guarda 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 che spettacolo che spettacolo trattore o sembro tipo link da zelda aspetta fammi vedere aspetta fammi vedere aspetta fammi vedere fammi vedere come ah è vero minchia so lui so aspetta fammi cercare un attimo su internet così faccio il confronto come si chiama link nick si link ah link come url ecco bravo zelda fammi vedere mettite davanti a me daniel ti prego ok aspetta sta caricando ah questo è daniel e se mi carica muove faccio vedere zelda come dai su cioè almeno se dovrebbe chiamare così sono un po' in ignorante ok si lo ammettono no l'ho trovato l'ho trovato a lui a lui si dovrebbe chiamare se link si 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 chiama così link se scrivo url z che mi trova zelda che mi troverà fammi vedere ah questo è daniel alza la capoccia daniel e e e questo è lui è uguale daniel sembra che c'è sembra che c'è i campani di ferro no io provo a scrivere url zelda url zelda no oddio che battuta o le scarpe bisognerebbe farse norma c'è quelle le belle normale perchè so tipo marroni cioè non so chi non so bianchi so bianchi eh si no dico quelle del ink so oddio che hanno lanciato una freccia io no apporto ci stanno scrivere da qualche parte per la guerra a acqua arco e feci di almeno tento di chiacchino che uso la roba però mi tengono poco che grazie mi tengono qua che ci prese basta con i greci e io sono quelle ci ho provato tanto ok quante preciosa e bene ma vabbè che tanto c'è l'arco incantato quindi no vabbè le vostre libio vabbè quindi lo devo manda sulla torretta alla casa c'è di vicino a linea mi ha passato a trovate il metodo cioè non c'è un vero proprio metodo io a parte ci ho avuto culo perché il mio sarà tipo baggato non mi attaccava più non ti attaccava più? eh e come ho fatto a farlo? non lo so ti ho detto se è baggato che ne so io che culo cioè quindi in distanza ma che schifo su ci vedono anche niente che è quello che sono lì che è come di un cavallo da lì inizio il gioco questa là quel cavallo io vado alla ricerca dell'isola di Nima no scherzavo che era un riferimento degli enderman perché devo ammazzare gli enderman dai tentiamo tutti e due l'imposto no vabbè per te che faccio ammazzare no per te che faccio la vuoi sapere una brutta notizia oh oh ma di minecraft si no di minecraft no che è linda cioè praticamente no da consigli ma pure da diversi video che ho visto io si perchè si vedo video ok no scherzo no vabbè comunque è da dalle ricerche per ammazzare allora per ammazzare l'ender dragon è un po' una strozzata vabbè oh eh lo sai più o meno no qual è la tecnica però per ammazzare per ammazzare il wither il wither che ha un problema ah bisognerebbe usare ho paura le le nocce le nocce ora ma per chi se lo c'è se può fare pure senza però è tipo difficile ma tanto difficile madonna quindi o no tanto non ci pensiamo perchè non serve mamma mia non serve però fammi feia però sorge un problema c'è sorge quel problema si ma le polli procreate aspetta però te la mera de nocce non ce l'hai ancora eh l'avevo mangiata però poi abbiamo ricaricato quindi si ce l'abbiamo ancora ce l'avevo dentro a questa cesta mi ricordo che l'avevo usata qua no si si no per forza non l'abbiamo usata ma io lo so io lo so da solo per fare l'obiettivo e poi abbiamo ricaricato quindi poi è che ma è già tanto useremo quella ma tu cazzo sta era meglio se ci eravamo due eh sì vabbè è come cazzo fai avercene due c'è impossibile dai cioè ci eravamo messa una vita a farne una mamma mia ma dove stavo non la trovi? no ma com'è possibile cazzo io so io non l'ho presa ma anche io guarda c'ho soltanto c'ho soltanto otto lingotti d'oro c'è solo è tanto comunque però no stasera no possiamo fare quella con le pepite allora o non si può so sì ma quella che ci serve è quella ah ah di nocci per palle spera che è putente sì a parte mesela l'avevamo mangiata senza qualche regamento boh pesate sì beh non è un problema per ora siamo non ci serve che cazzo ci fa qua un creep che fa lì ripara ok spolastico boh bambino non è un colpo insomma ma va 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 ma che come lo tu mi lo scherzo vizio ma se non mi da un colpo da un culo non è contento ma che è lo scherzo oh lo scherzo bono ah quello porto e cosa servirebbe vieni qua un'altra ma va 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 il caso soffa oh ti muovi eh lui il creeper ma non possono su che ci sta qua dietro no c'è sta quel creeper che forca miseria se ne servirebbe veramente looting alla spada come si chiama in italiano il looting saccheggiamento saccheggiamento saccheggi o saccheggiamento non sono là no i cani sono stupidi o saccheggiamento ok no 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 non hai capito perché non hai visto un video no troppo forte ma i cani non uccidevano gli scheletri solo se ci avevi a domesticati oh no no ma va 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 non lo attaccano pure senza vedete poco bastardo l'attaccano presenza ma non ci sono scherzo a best mani o come ammette lo tinga la spada è veramente anzi aspetta che abbiamo un po di libri no se lo ti fa in un quadro che palle dove cazzo sono a tutti quei libri ok posto prova a mettere ei vabbè protezione a fuoco e potenza che cazzo ci faccio con protezione a fuoco e potenza non mi serve provo con un altro libro vuoi la stessa roba protezione a fuoco e potenza certo la stessa cosa ma che palle allora facciamo una cosa con lo scrivete con un po' è una spada si dice questa 50 metri so c'è una non vi regolare manco che per caso c'è un'altra spada di diamante sì ma c'è una ma la la ma non 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 vede più spade possibile ecco ma le vado di qua comunque però ma che è quella no quelle di ferro quelle vabbè quella di pietra nemmeno teoria no no ah vediamo questa quella di ferro quante esperienze che cazzo era l'acutezza eh affilatezza sarebbe sostituisci affilatezza trageri al pro trovo voi niente ehm questo acutezza trageri al trovo di due non mi serve ma non mi dico a me fa lo stesso perchè veramente gli sputo in bocca aspetta da metterli dentro qualche cesto no 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 e no mi dai un po' di labiscazzoli così prof eh si stavo a che di prof fa eh incantando eh però non l'incanta a caso cioè nel senso se ci sta un incantesimo e non te serve non lo fa eh ma andato se leggevelo durezza 2 per costa questo aspetto di fuoco che te possono aggiornare? solo 6 no lanciano una carota basta andiamo un po' ma dai ma non cambiano mi servirebbe l'utica voglio il looting non lo darà mai riuscito però ok prova a metterla con qua ci abbiamo la piccozza e ferro con fortuna una efficienza 2 tu l'insano e con l'unico l'unico dove arriva a livello 30 voglia ci su hai mani e l'entrata uno spitino occhio no 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 ti ho avvertito c'entrata c'entrata un ospite un sciatista che fomo di risale ricarichiamo Eh ma poi se te rifa la soul fai tutto quanto Ah è vero Eh che cazzo Davvero Vai cominci a rimettare op E conviene rinfinare tutto dentro I creeper sempre quando non servono insomma Però come cazzo è possibile che è entrato Quei c'era la porta aperta Sì ce n'erano due A posto Questa è un attacco sport Quanti cuori dallevato Un cazzo andrano ma d'altro un cazzo Poi un vicino che esploso Mamma mia Eh posso fare casse No No non c'è stato tanto spazio E' qua madonna Ma come 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 ho già finito spazio Ma come ho già finito spazio Che palle Niente devo abbattere un legno per un cubo di di lavorato il tema è normale ha messo niente io allora vediamo un po intanto controllo se tutte le porte so chiuse ma anche non voglio lavorare inglese e poi controllo i trofei ovviamente un altra volta pagate trofei vaffanculo i trofei allora abbiamo o almeno che decidiamo insieme anche questo la scelta di poter fare diverse cose mannaggia coltive c'è una volta ovviamente sistemato il tutto quindi possiamo o posso sempre o possum sempre parlo quando ricarica il trofeo ok chi è nato molto c'è l'ora del giro alla me serve da far mai andermen però conviene farlo a notte primo conviene causare un danno da 9 cuori con un solo colpo ecco questi non bisogna vede come cazzo si fa come cazzo si fa esagerato guarda quanti ospiti ma donna ma se mi esce guarda guarda se esci i vecchi allora allora trofeo pesa oggi tra l'altro pochino e bui qua ma che è un anno sono a te insomma esploso e meno male che dentro l'acqua è no quanti l'acqua hanno oh mio dio dai salto nervoso tra sto gioco e lo streaming vabbè c'è tutto il tempo per salire tanto qua il creeper non si muove fa come vuoi con comodo io tanto la notte è lunga arriva la notte è lungo ma chi è sposa una pevola c'è sta cosa dei 30 blocchi no per esempio trampolino ecco trampolino cos'è trampolino un trofeo e che devi fare esiste da danni da caduta scommetto eh no aspetta vedo un attimo lì più parli ma ma mob parte che non si trovano guarda qua la roba dire che c'ho una ragazza coglioni oh una chiamata eh si è chiusa no Matteo leva leva non devo chiamare Matteo non devo chiamare Matteo sempre non ho può Understand che cosa non il lì che cosa non mi insomma no 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 ma posso far in arco cosa è successo? ti hanno chiamato per caso? no, dovevo vedere un attimo un video per vedere come fa il trofeo ma perché? ah eccolo l'arco, ah, è sparito era sparito solo che me non esce più, baffanculo che poco di merda allora nel video che ho visto, ma bisogna vedere perché ha fatto pure un mega taglio che è una certa se vede il trofeo così a casa come vedi, vabbè, se fa così, fidate quindi da quello che ha detto lui però per fare trampolino e non esagerato poi vediamo dopo si che palle ma non me lo carica che palle ma si impacco tutto il gioco il gioco di merda e sta ancora a carica il menu oh, alleluia tocca a crafty innanzitutto un blocco di slime ma non è quello il problema perché slime c'era un bordello e se crea poi bisogna averci due stack di di un blocco da da costruzione penso cioè lui ha fatto quella sabbia ha fatto un pillan e non si un pillan no ovviamente il pillan se fa no ha fatto un pillan enorme un cosa un un pillan che è come che è il pillan andrea natura c'è natura ah ok ok e poi si è gettato ah ok devi pegare sul quindi praticamente allora non sta che io lo faccio con la con la terra dai facciamo con la terra con la terra e spero funzioni perché veramente se abbiamo fatto un altro trofeo poi toccherà toglie il pillare e i watch allora c'è lo vedremo comunque già lo farò esattamente sopra casa così non sale nessuno vi è un po' strosto cazzo la rischietro c'è niente adesso non è più molto contento ora faccio sopra casa così ci stanno problemi forse che è quello che è quello che è quello aspetta fammi mangiare se no qua ci crepiamo ci creeperiamo che è qua ma posso zoom con l'arco e poi prendere il tasto sinistro per non sprecare la freccia per ora non lo ha colpo bello strano da minecraft non saremmo aspettato non vedo qua, non vedo niente lo stio schiermari da un punto abbastanza alto taglia che casca è sopravvissuto si vediamo cosa cosa accade se mi da questo oh me l'ha dato oh me l'ho come trampolino quindi devi proprio rimbalzata quanti cubi più o meno andrea usa tutto quanto lo stack fai tutti i tuoi stack e poi ti butti non deve succedere altro la raccolgo sul momento e la uso sul momento che bello ah intanto vediamo altri trofei ma 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 quanti sosti cosi tra cui esagerato che non so come fare come si fa esagerato aspetta ristoppo un attimo la chiamata eh ah ok vado eh ma ero dimenticato che io ero ebreo giusto e vabbè capita quando si dimentica della sua ebreagine su capita capita vedo solo dei punti esperienza ah eccoli tutti no non mancano altri film l'arco cazzo non sta l'arco no no l'arco no 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 ma non c'è stato sto blocco su 1 la terra l'arco eccolo per la marciotto su uso quello ci facciamo con tutto sto ciotto non mi vado anche per accoglierlo ciotto 29 basta? ciotto a posto le carote oh me ne sono ricordato ah ma quanto è infinito? ecco daniel daniel c'è un problema dimm son morto cascando sul coso di slime sei morto? cascando sul coso di slime andrei impossibile calcola ti giuro guarda me guarda mo mo casco ancora più acento aspetta se trovi le carote raccogliere dico me so cascate prima quando son morto ma ho trovo ma tu stai sopra il pillar si sto ancora salendo sto usando tutti quanti due blocchi di terra che hai messo così stessa altezza stessa ti sei cascato al centro proprio oppure no non so cascato sul blocco normalmente guarda mo come moro invece sei pronto per aspetta 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 ok ok devo sali sopra non so salito ancora ah ok vai aspetta un attimo bloccato dic ok puoi scendere ecco eh sto usando tutti i due blocchi anche se mi sa che qualcuno ne sta cascata eh infatti si pronto? vai madonna quanto alto ecco me guarda come moro eh oh ora sono sovravvissuto no spiegami perchè ecco perso ah ok l'ho fatto dopo te l'ho fatto dopo perché sennò morire morire se ce lo facevo non devo stare in borsa le carote via un po solo cura di alla calcola ho visto per fare la pozione serve la never worth che sarebbe la verruga ma meno male ci abbiamo allora c'è lui praticamente questo qua visto che non è quello di prima allora ho visto due video visto ecco perché ci ho messo un po di più allora uno che era sempre di quello di prima che da quello che sopra il trampolino e praticamente consiste semplicemente nel semplicemente semplicemente tra virgolette consiste nel come cazzo si dice di incantare la spada dei diamanti coppino a far troppo fragello 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 degli altri uomo di quattro vendermi e poi e poi mi hanno ammazzato che è successo stanele è stato il tuo interesse che ha portato un attimo da me mi trovo a fare gli amanti per questo ho fatto scantaroto ammazzato dove dove dov'è intervento per te per te per te per te vabbè questo praticamente ha usato la cosa che ho bene a far troppo s'ha ammazzato il ragno e gliel'ha dato ha fatto vedere gliel'ha dato mentre quest'altro ha incantato cioè non ha incantato ha fatto sta pozione se l'è bevuta e poi ha ammazzato un villager però non gliel'ha dato il trofeo ci ha detto semplicemente mo merota e ha detto ciao velocemente quindi un truffatore no a se lo sta per la cosa madonna non lo so ma proviamo aspetta ma perchè le cose più utili spariscono nel gruppo ah eccolo ma perchè non c'è l'enderman cazzo sparito ho visto un attimo l'uomo nero e poi ho visto la nebbiolina del teletrasporto vicino quindi era lui sicuro l'unico mob che fa la nebbiolina e il portale ma la intanto tocreo delle bottigliette le scarote sono sparite mannaggia le scarote ah va distruggo una carota e me ne da una ma che senso c'ho esatto bisogna rimpille d'acqua innanzitutto uno due tre quattro posto rientriamo eh vabbè poi quando mai si chiude sta porta in faccia no proprio e ci mette ok ne creo più di una così se funziona ci mettiamo la netherworld poi serve la come cazzo si chiama pure questa non mi viene google chrome va lento strano eh google chrome che sta sempre vanno vantato di essere veloce guarda l'unico sta andando lentamente che vedo che il resto si scusa se a volte te interrompo il mio improvviso Matteo eh nessun effetto la pozione maldestra e poi intanto che faccio la pozione maldestra mi servirebbe la glowstone pozione della grazie